Creare una relazione. Chiunque venda un prodotto o un servizio confida che tanti potenziali clienti bussino alla porta, meglio se già incuriositi o addirittura affascinati da ciò che viene loro proposto. Quella relazione, allora, potrà essere non solo favorita ma più efficace, produttiva, quando a provocarla sarà un'emozione. Chi ottiene questo risultato ha sicuramente la capacità di saper raccontare. Tra i temi proposti da Confartigenato Vicenza nell'ambito del programma 2017 di Innovarti, iniziativa che da anni stimola e agevola l'innovazione in azienda, c'è lo storytelling, ovvero la capacità di creare rappresentazioni testuali, visive, sonore, percettive e multimediali del brand, del prodotto o del servizio, per emozionare e relazionarsi meglio con il pubblico. Ce ne parla Eleonora Odorizzi, progettista e docente di design, che animerà due incontri di approfondimento rivolti agli imprenditori interessati. Si tratta di raccontare storie, che è qualcosa che noi facciamo da millenni. Raccontare storie è proprio lo strumento attraverso cui da secoli, da millenni, trasmettiamo la conoscenza. Storytelling per cui è di fatto uno strumento che ci serve per comunicare, soprattutto tramite le emozioni, dei contenuti che vogliamo che siano trasferiti alla persona a cui ci rivolgiamo. Storytelling si può avere in tanti modi diversi. Sicuramente il primo che ci viene in mente, ed è forse il primo di cui ci resta traccia, è la rappresentazione per immagini. Al giorno d'oggi la rappresentazione per immagini è fatta di fotografie, è fatta di video, è fatta di tante particolarità diverse che possono raccontare tramite lo strumento visivo delle storie. Poi c'è sicuramente lo strumento del testo, che è un altro strumento narrativo potentissimo, è quello che si riferisce alla scrittura. Oggi sappiamo che questi due strumenti insieme, combinati, possono essere utilizzati attraverso il web, i social media, per far arrivare le nostre storie, quindi il racconto della nostra esperienza personale, aziendale, produttiva e anche del territorio, davvero lontanissimo ovunque, chiaramente sapendo utilizzare le lingue che sono tante. Poi abbiamo anche un altro strumento che è sicuramente quello immersivo, quindi lo storytelling dello spazio. Gli spazi, come quello dove ci troviamo oggi delle cantine Poli, raccontano molto di quella che è un'esperienza, così come appunto invece l'aspetto vero e proprio esperienziale, quello dello, come lo chiamiamo noi sempre con una parola inglese, story living, la possibilità di vivere un'esperienza all'interno dell'azienda è certamente un'esperienza di storytelling potentissima, perché immerge la persona nel contesto che si vuole effettivamente sperimentare, quindi non è un'esperienza che si fa a distanza tramite l'immagine, tramite la scrittura, ma è qualcosa che si vive in prima persona. Ogni imprenditore, ha spiegato Eleonora Odorizzi in sede di presentazione dell'iniziativa, ha certamente qualcosa da raccontare di sé e della sua impresa. Il punto di partenza sarà l'analisi di prerogative e notizie che possano essere più interessanti agli occhi di un potenziale cliente e quindi oggetto dello storytelling. Perché bisogna farlo? Beh, intanto perché a livello internazionale il terzo brand più conosciuto dopo la Coca-Cola e la Visa è il Made in Italy, però purtroppo se noi cerchiamo soprattutto sul web informazioni sul Made in Italy, che non è soltanto quello delle supermarche, facciamo fatica a trovarlo, perché non ci sono contenuti, quindi c'è proprio bisogno di produrre contenuti. Si punta più alla descrizione del prodotto che uno realizza, che offre sul mercato, o è più importante quello che sta dietro al prodotto? Ma allora, il prodotto sicuramente non ha da tenere da parte. È certo che in questo caso l'attenzione si sposta più sulla persona o sulle persone che quel prodotto lo realizzano e sul perché lo hanno realizzato e come, in che modalità. E poi a quel punto, nel momento in cui, con tutta una serie di strumenti, abbiamo creato delle emozioni, abbiamo coinvolto il nostro pubblico, allora sarà il pubblico stesso che è interessato a sapere che cosa viene prodotto. Quindi, diciamo, non dobbiamo più, come faceva magari la pubblicità tradizionale, convincere che quel prodotto è buono, ma dobbiamo coinvolgere all'interno della storia e di conseguenza, come dire, l'interesse verso il prodotto arriverà di conseguenza a questa strategia di comunicazione che abbiamo adottato. Tutte le informazioni sugli appuntamenti le trovate sul sito internet innovarti.it